Salve a tutti Blazers, benvenuti in questo nuovo video. Siamo con un gioco che ovviamente conoscerete tutti perché oggi vi propongo sul canale Black Ops 3, il nuovo capitolo della saga di Call of Duty per il quale devo ringraziare il mio network che mi ha fatto avere la copia del gioco appunto per provarlo insieme a voi sul canale. E ragazzi, che cosa vi proporrò in questo video? Ho deciso di non portare il solito multiplayer perché sicuramente ci saranno tantissimi canali già a farlo, ma di portarvi invece un estratto della campagna principale quindi la prima missione della campagna. Ovviamente questo video nasce come video singolo ma se la cosa vi può piacere fatemelo sapere nei commenti e lasciate un like e nel caso possiamo vedere di portare altre puntate e perché no magari di fare l'intera campagna sul canale. Detto ciò ragazzi, non perdiamo altro tempo e avviamo subito la campagna per iniziare la prima missione del gioco. Ovviamente sceglierò un personaggio maschile essendo io maschio e tra questi brutti ceffi direi che forse lui è quello che mi può identificare un po' meglio giusto per la pettinatura, che so io. Comunque vai, buona. Da quello che vedo nell'intro c'è uno scenario quasi apocalittico in questo gioco e futuristico ovviamente. Con addirittura dei robot. Ok, io non ho giocato il secondo Black Ops, ho giocato solo il primo quindi non sono molto aggiornato sui progressi della storia. Sono Jacob Hendricks, il nuovo capo. Un altro Jacob dopo quello di Assassin's Creed, attenzione. Preso in ostaggio dall'NRC due giorni fa. Ah, hanno preso in ostaggio un politico quindi. Lo vogliono impiccare, ma che merda. Quindi, la nostra missione sarà salvare questo ipotetico ministro egiziano rapito. Salve, salve, lei chi è? Ah, io sono questo qui seduto, bella. Oh, cosa? Che cazzo vuoi? Ah, ma abbiamo preso controllo di questa sala. Non è che... Ok, quindi siamo già infiltrati nella base. Quindi stiamo per abbattere questo aeroplano. Annullare a terra... Oh, la madonna. Ah, cioè, avrò più fatti cadere gli aerei sulla vostra stessa testa? Beh, siete furbi comunque. Abbiamo fatto un po' di casino. Salve voi, salve, salve. Siamo del gas. C'è stata una piccola esplosione delle tubature. Passeremo in un serbato. Ah, quindi siamo... Andix. Ah, Andrix. Avevo letto And-Dix. Perfetto. Ok, Andrix. Ok, Andrix. Sì, andiamo. Certo. Sono pronto? Ora andiamo? Ma questi non li devo uccidere. Ok, siamo infiltrati, quindi non ci dovrebbero riconoscere. Eh, mi sa che abbiamo fatto un po' di macello qui, eh. Eh, non so, com'è questa impressione. Salve, scusi, non è che vi... Ma no, li stavo chiedendo se ci apriva il cancello. Ma... Ma sei un mostro, ma c'era bisogno. Eh, a quanto pare c'era bisogno. Ok, va bene, andiamo. Di cattiveria. Questi sarebbero prigionieri che portano dentro? E loro non ci riconoscono perché siamo... Siamo infiltrati. Non si apre la porta, Andrix. Fai qualcosa. Bravo, Andrix. Vedi che mi piace quando mi ascolti. Eh, che cazzo è chiusa. Andrix ci fa un po' da uscire. Lui apre le porte, tutto qui. Anch'io sono pronto. Vai, entri, entri. Dobbiamo sparare a sto giro? Va bene, fai tutto tu. Allora, cioè, io non posso giocare neanche. Questo entra, babam. Ok, ti trovo il ministro. Utilizziamo quindi la telecamera per cercare il ministro nella struttura. Qui c'è un tavolo. È lui? No, altri ostaggi. Merda, quindi ce n'è più di uno. Oh! Ma ne le testicoli le hai pestato? Eh, la madonna. Ma che cattiveria. Ah, quindi questi li lasciamo accrepare proprio, cioè. Cosa stai per fare? Cosa... Lo vuoi saltare al tavolo? Ma che succede? Ah, questo è il ministro. Ok, non lo stanno... Non hanno un occhio di riguardo, eh. Ok, lo stanno spostando da un'altra parte. Questo viene picchiato, ma intanto non lo salveremo. Ah, ecco. Il ministro. Ok, lo stanno spostando. E lo portano al tavolo dell'interrogatorio, presumo. Va bene. Bingo, bravo. Ci siamo. Andiamo a prenderlo. Perfetto. Ma devo combattere qui? Oh, è merda! Così di vuoto! Muori? Aspetta, ma io non so neanche i comandi. Cioè, è proprio così di cattiveria. Cioè, tipo... Come faccio l'attacco corpo a corpo? No, non è questo! Ehm... Hendrix! Scusa, ti ho lanciato forse una cosa che non dovevo. Bam! Headshot! Bam! Headshot! Bam! Headshot! Bam! Headshot! Ok, dai. Andiamo avanti. Dov'è il mitragliere? Eccolo. Preso. Che cazzo è successo? È esploso tutto a caso e mi sono spaventato quasi. Mamma mia, è Michael Bale style qui. Poi muoiono tutti bruciati. Voi, dove... Perché vi nascondete qui? Muori! Muori! Aspetta. Ok. Sto facendo Rambo style. Vai, entra! Che palle, devo sempre aspettare lui. Scusa, Hendrix! Ti sei un po' abbronzato. Vai, irrompi, irrompo. Oh, finalmente posso farlo io. Vai! Il disco di Xena. La sala osservazioni. Ah, ho capito. Scatenate l'inferno. Vai, mamma mia, il mega salvataggi. Tutto bene? Salve, ministro. Ma perché questo? Cosa succede? Cairo, sapete che questo lo rende molto prezioso per la loro propaganda. Lo faranno diventare un esempio. Ma chi è Kail? Non era un calciatore, Kail. Quindi dobbiamo salvare questo tale Kail. Ma c'è qualcun altro qui dentro? Ah, questa porta l'apri tranquillo. Merda. Com'è conciato. Mamma mia, che volontà di ferro. Vuole combattere. Eri appeso come un salame fino a poco fa. Pronto! Andiamo! Apri! Vai! Facciamo i grandi culi! Aspetta che però sto sparando troppo la cieca. Ok. Uomo a terra, uomo a terra. Mamma mia, le stragi che sto facendo. Sparo a Muzzo e ne prendo 20. Cioè, cosa succede? Dov'è il montacarichi? Ok, adesso ci andiamo, non c'è problema. Sono al montacarichi. Merda, quanti ce ne sono? Aspetta! Aspetta, aiuto, aiuto. Aiutatemi però. Gli ho sparato in un piede. Ok, aspetta. Ci sono, ci sono. Sto per morire però ci sono nel montacarichi. Venite, dai, presto. Perché sto scrivendo le cose in chat? E ho sbagliato ancora tasto. Scusi, ministro. Non volevo. Giù le armi! Ah. Passatele! Merda! Facciamole, siamo morti. Ok. Fidati. È meglio fare come dicono. Che succede? Sono arrivati i nostri? Ma cos'è? I fantasmi sono invisibili questi. È Taylor! Taylor! Grande! Maretti. Ma che cazzo è Maretti? Ma dai. Che cognome è? È un italo-americano. Porco diaz. Guarda come sono all'allerta loro. Io voglio diventare invisibile però. Ma siete stronzi. Allora, qui ci dovrebbero essere esatto i rifornimenti. E si va. Che cazzo hai fatto? Cosa hai fatto? Ma questo vola. Ma stiamo scherzando? E si entra così di cattiveria. Vai! Passiamo da sopra. Ok. Però se non li elimini, zio, un casino. Qua ci sparano. Occhio che sono tutti camperati, ste merde. Sono tutti camperati, ste merde. Vieni qua. Diaz, io non sto a saltare però ti copio perché sei figo. Ecco Taylor. Bene, scendiamo. Si continua, si continua. Si va avanti. Vai di granate. Parla per te che io ho le granate qua. Guarda, te! Ho sbagliato tantissimo però. No, le ho finite, merda. Dobbiamo abbattere quel VTOL. Puntare ai missili. Che figo. Ok, vai, vai, vai. Mamma mia, stacchiamo tutti i missili. Oggi tiriamo giù gli aerei, ragazzi. Me la sento. Sì, ma amici, ma perché loro non li uccidete, eh? Devo sparare tutti io? Fate i mega pro con i salti e poi non uccidete questi due scemi qui. Guarda cosa sta facendo quella. Che provate fa? Va bene, ok, grazie. Quindi dobbiamo andare al ponte di qua? Io corro, eh. Ma spera, ma questi non sono dei nostri. Cos'è che devo distruggere qua? Ah, ci sono i veicoli. Vai, spara. Granata, granata. Anche là. Vai. Mamma mia, le distruzioni che sto facendo. Ah, ok. Quindi la nostra via di fuga è saltata così. Ok. Dobbiamo scappare di qui questa volta. Vai. È pieno di gente qui, ragazzi. E poi arrivano le astronavi aliene qua. Come via le luci? Che figata. Sì, combattiamo al buio. Bella, non ci vedono. Mi diverto. Mi diverto tantissimo, tanto non mi vedono. Grazie, bella. Grande. Maretti, sei un grandissimo. E adesso? Quel vinto, il cibo, è qui. Eh, infatti, come facciamo a uscire se c'è una mega astronave? Ma guardalo! Come ha fatto a fare sta cosa? No, ragazzi, anch'io voglio fare queste cose, però non è giusto. Ok, dai, ragazzi. Siamo arrivati quasi al punto secondario, penso. E lo sei immaginato, Maretti. Mi sa che il cervello ti sta andando a portare. Che succede? Raga, c'è una roba rossa, là. Che cazzo è? I Terminator! Ma siamo fuori! Ma siete fuori! Merda! Sono potentissimi! Aiuto! Aiuto! Gli tiro le granate! Cosa dobbiamo fare? Scappa, scappa, ok? Ok, scappo! Ma siete fuori! Sono altri ostaggi. Potreste liberarli voi. Anch'io voglio salire. Sono una priorità. Lo so benissimo, ma sono pur sempre persone, cazzo! Infatti, salvate anche gli altri, Taylor. Non fare la merda. Ormai hai perso ogni pricciolo di umanità. Eh, eh, Taylor. Hai perso l'umanità, eh? Eh, Taylor. Eh, Taylor. Ok, cambio di programma. Bravo! Vai, vai, Taylor. Salva tutti. Posso salire anch'io, ragazzi? Cazzo, meno male che sono una recluta, eh? Mi state facendo fare cose devastanti qua. Quanti ce ne sono? Ok, sto... Ma è potentissimo sto mitragliatore. Buona. Dai, allora ce la facciamo scappare. Eh, tiro giù gli aeri pure. Ma stiamo scherzando. Quanto sono qui? Non ti preoccupare, ci penso io qua. Sono troppo forte. Zii, guarda. Vai che potenza che sono. Arrivo. Attacchiamolo. Mamma mia, che macello sto facendo. Non ci capisco nulla. Questo affare si è fermato. Fai tanto il simpo, però intanto ti incastri nelle recensioni, eh? Sarai pirla. Oh merda, ecco, ovviamente arrivano tutti i robot. Però... Ma riesce a ingranare una cazzo di maccia? Dove l'hai presa la patente, eh? Oh, bella, finalmente. Vai, tira lì tutti sotto. Ok, hanno salvato anche gli altri ostaggi, dunque. Ricevuto. Esco di strada. Recupero in vista. Bella. Hai dimostrato di saper guidare di merda. Complimenti, Hendrix. Complimenti. Ok, cosa dobbiamo fare? Ah, devo entrare in quella roba lì. Ok, andiamo, andiamo. Scappa. E andiamo via, ben volentieri. Però qua c'è la fine del mondo, zio. Dai, andiamo via. E fammi entrare! No, arrivano i cyborg. Arrivano i cyborg. Ragazzi. Occio. Ok, vengo. Eh, mi hanno colpito. Arrivano i cyborg. Arrivo. Aiuto. No! Ma che merda, ho fatto tutto io, mi mollano pure qui. Aia! No, ma che stronzi! Eh, sì. È tutto da vedere se non moriremo oggi. No! No, non lo fare! Non lo fare! Ma sei stronzo! Ma perché lo devi fare? Ma uccidimi e basta, no? Che cattiveria! Ma che fine di merda. Cioè, dopo tutta questa fatica che mi hanno fatto fare, arriva un robot e mi strappa... Ah no, aspetta. Taylor! Grandissimo Taylor. Eh, dalla faccia che fa mi sa che siamo messi molto male, però... Mi hanno salvato? O saremo morti? Ok, ragazzi. Abbiamo finito la prima missione di questa campagna. Devo dire che la posso definire sorprendente. Sapevo di questi soldati super tecnologici e tutto, della tematica delle protesi artificiali. Tra l'altro, non so se lo sapete, a me piace un po' seguire anche il mondo della tecnologia e stanno sviluppando realmente delle protesi artificiali funzionanti che un giorno potranno risolvere disabilità molto complesse. Ed è interessante vedere un tema così moderno applicato in un videogioco, per quanto sia in modo esagerato, perché a livello militare probabilmente siamo lontani anni luce. Però è stato figo. Poi c'erano i robot, un sacco di cose. Devo dire che mi è venuta voglia di giocare la seconda missione. Non vedo l'ora di vedere come continua e cosa ne sarà del nostro personaggio. Comunque, ragazzi, fatemi sapere se anche a voi è piaciuta questa prima missione. Nel caso, ditemi se volete vedere altri video di questo tipo sul canale. Ovviamente, se questo video andrà bene, potrei sicuramente continuare la campagna e, perché no, farla anche tutta. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto. Un saluto da Iron Blaze. Ci vediamo presto con nuovi video. Ciao a tutti! Dove sono? Calmati. È tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene.